www.pushetta.com Faccia i nomi, Bushetta. Dottor Falconi, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Io rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Bushetta. Non ci sono intoccabili. Non mi fa intendo, ma ha più paura dello Stato che della mafia. Onetoba! La sei sale! Onetoba! Io sono stato, per il resto, un uomo d'onore. Sono loro che hanno tradito l'ideale di Kosanowski. Per questo, io non mi considero un pentito. A presto! www.pushetta.com A presto! Per questo, io non mi considero un Paolo di kaginale. Comello, in primo, la tua parte di più!